ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco attorvastatina sandots gmbh sandots spa ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa è attorvastatina sandots gmbh confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere attorvastatina sandots gmbh durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è attorvastatina sandots gmbh attorvastatina sandots gmbh è un farmaco a base del principio attivo attorvastatina sale di calcio appartenente alla categoria degli polipemizzanti statine e nello specifico inibitori della hmg coa riduttasi è commercializzato in italia dall'azienda sandots spa attorvastatina sandots gmbh può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni attorvastatina sandots gmbh 10 mg 30 compresse rivestite con film attorvastatina sandots gmbh 20 mg 30 compresse rivestite con film attorvastatina sandots gmbh 40 mg 30 compresse rivestite con film attorvastatina sandots gmbh 80 mg 30 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare sandots spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo attorvastatina sale di calcio gruppo terapeutico i polipemizzanti statine forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni per colesterolemia torvastatina sandots gmbh è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale colesterolo ldl a polipoproteina b e trigliceridi in adulti adolescenti e bambini di età pari o superiori a 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare variante terozigote o iperlipemia mista corrispondente ai tipi ia e ib della classificazione di fredrickson quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata attorvastatina sandots gmbh è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo ldl in adulti con ipercolesterolemia familiare o mozigote in aggiunta ad altri trattamenti i polipemizzanti ad esempio ldl feresi o se tali trattamenti non sono disponibili prevenzione della malattia cardiovascolare prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare vedere paragrafo 51 in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio posologia posologia il paziente deve essere posto a dieta standard di polipidica prima di ricevere a turvastatina sandots gmbh e deve continuare la dieta durante il trattamento con la turvastatina sandots gmbh la posologia deve essere personalizzata tenendo conto dei livelli basali di colesterolo ldl dell'obiettivo della terapia e della risposta del paziente la dose iniziale abituale e 10 mg una volta al giorno aggiustamenti della posologia devono essere fatti ad intervalli di quattro settimane o più la dose massima e 80 mg una volta al giorno ipercolesterolemia primaria iperlipemia combinata mista la maggioranza dei pazienti sono stati controllati con la turvastatina sandots gmbh 10 mg una volta al giorno entro due settimane si evidenzia una risposta terapeutica e la massima risposta terapeutica si ottiene di solito entro quattro settimane nel corso di terapia cronica la risposta viene mantenuta ipercolesterolemia familiare eterozigoti pazienti devono iniziare con la turvastatina sandots gmbh 10 mg al giorno la posologia deve essere personalizzata e aggiustata ogni quattro settimane fino a 40 mg al giorno successivamente la dose può essere aumentata fino a un massimo di 80 mg al giorno oppure può essere somministrato un sequestrante degli acidi biliari insieme a 40 mg di aturvastatina una volta al giorno ipercolesterolemia familiare omozigoti sono disponibili solo dati limitati vedere paragrafo 51 la dose di aturvastatina in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigoti è compresa tra 10 e 80 mg barra di e vedere paragrafo 51 in questi pazienti la turvastatina deve essere impiegata in aggiunta ad altri trattamenti polipemizzanti per esempio l dl feresi o se tali trattamenti non sono disponibili prevenzione della malattia cardiovascolare negli studi di prevenzione primaria è stata impiegata la dose di 10 mg barra di e per ottenere i livelli di colesterolo ldl previsti dalle attuali linee guida possono essere necessarie dosi più elevate cosomministrazione con altri medicinali nei pazienti che assumono gli agenti antivirali antiepatite c il basvir barra grazoprevirin concomitanza con la turvastatina la dose di turvastatina non deve superare 20 mg barra di e vedere paragrafi 4 4 e 4 5 compromissione renale non è richiesto alcun aggiustamento della posologia vedere paragrafo 44 compromissione epatica turvastatina sandos gmbh deve essere utilizzato con cautela in pazienti con insufficienza epatica vedere paragrafo 44 e 52 attorvastatina sandos gmbh è controindicato in pazienti con malattia del fegato in fase attiva vedere paragrafo 43 anziani l'efficacia e la tollerabilità nei pazienti di oltre 70 anni trattati con le dosi raccomandate sono simili a quelle osservate nella popolazione in generale popolazione pediatrica ipercolesterolemia l'uso pediatrico deve essere effettuato solo da medici esperti nel trattamento dell'iperlipidemia pediatrica ed i pazienti devono essere sottoposti ad una rivalutazione su base regolare per valutare i progressi per i pazienti con ipercolesterolemia familiare eterozigote di età pari o superiori ai 10 anni la dose iniziale raccomandata di atorvastatina è di 10 mg al giorno vedere paragrafo 51 la dose può essere incrementata fino a 80 mg al giorno in accordo alla risposta e alla tollerabilità le dosi devono essere personalizzate secondo l'obiettivo raccomandato della terapia gli aggiustamenti della dose devono essere effettuati ad intervalli di 4 o più settimane la titolazione della dose a 80 mg al giorno è supportata da dati di studi negli adulti e da dati clinici limitati provenienti da studi in bambini con ipercolesterolemia familiare eterozigote vedere paragrafi 4 8 e 5 1 i dati di sicurezza ed efficacia derivanti da studi in aperto sono limitati in bambini con ipercolesterolemia eterozigote familiare di età compresa tra i 6 e i 10 anni la torvastatina non è indicata per il trattamento dei pazienti di età inferiore ai 10 anni i dati attualmente disponibili sono descritti nelle sezioni 4 8 5 1 e 5 2 ma non può essere fatta nessuna raccomandazione sulla posologia altre forme farmaceutiche barra dosaggi possono essere più appropriate per questa popolazione di pazienti modo di somministrazione a torvastatina sandos gm dh e per uso orale ogni dose giornaliera viene somministrata in dose unica e la somministrazione può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata indipendentemente dai pasti controindicazioni a torvastatina sandos gm dh è controindicato nei seguenti casi ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti del medicinale elencati al paragrafo 6 1 malattia epatica in fase attiva o con inspiegabili persistenti aumenti delle transaminasi oltre tre volte il limite normale superiore gravidanza allattamento e nelle donne in età fertile che non usano appropriate misure contraccettive vedere paragrafo 4 6 trattati con antivirali antiepatite c glicca previr bar rapid renta svir avvertenze speciali e precauzioni di impiego effetti sul fegato devono essere effettuate prove di funzionalità epatica prima dell'inizio del trattamento e periodicamente in tempi successivi i pazienti che presentano segni o sintomi indicativi di danno epatico vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetti di altri medicinali sua torvastatina la torvastatina è metabolizzata dal citocromo p 450 3 a 4 chip 3 a 4 ed è un substrato dei trasportatori epatici del polipeptide organico trasportatore di anioni 1b1 o atp 1b1 e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere a turvastatina sandots gmbh insieme ad altri farmaci come arcido fusidico la teleprompente legato i Midette Lotteva, Allozov, Aviflucox, Tacnacid, Clamodine, Clarytrol, Clarytromicina Accord, Clarytromicina Almus, Clarytromicina ALMUS, Clarytromicina ATAN, Clarytromicina Alter, Clarytromicina Docgenerici, Clarytromicina DR Reedis, Clarytromicina E.G., Compressa rivestita, Clarytromicina Eurogenerici, Clarytromicina H.C.S., Clarytromicinazew, Clarytromicina XAL, Claritromicina San Doz GmbH, Granulato, Claritromicina San, Granulato, Claritromicina San Pharma, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Dermomicin Cort, Diflucan, Capsula, Diflucan, Capsula, Soluzione, Uso interno, Diflucan, Polvere, Dizzolo, Elazor, Eritromicina IDI, Crema, Soluzione, Eritromicina IDI, Gel, Eritromicina Lattobionato Fisio Pharma, Xomax, Fluconazzolo ABC, Fluconazzolo Accord, Fluconazzolo Almus, Fluconazzolo Aurbindo, Fluconazzolo B. Brown, Fluconazzolo Bioindustrialim, Fluconazzolo Doc Generici, Fluconazzolo EG, Fluconazzolo Galeni Cassenese, Fluconazzolo Exal, Fluconazzolo ICMA, Fluconazzolo Kabi, Fluconazzolo Milan, Fluconazzolo Pensa, Fluconazzolo Retiofarm, Fluconazzolo Sandoz, Fluconazzolo San, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Flucimex, Flumicon, Flumos, Flores, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fungus, Fusapiel Beta, Fusicutam Beta, Genfibrozil Doc Generici, Genfibrozil EG, Genmiflux, Genlip, Itraconazolo Doc Generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milagenerix, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Chetoconazolo HRA, Chetonova, Clacid, Compressa Rivestita, Granulato, Clacid, Granulato, Clacid, Polvere, Clacid RM, Clider, Clurenis, Crutlar, Lauromicina, Compressa, Lauromicina, Unguento, Lefunzol, Lopid, Lucandiol, Macladin, Compressa Rivestita, Macladin, Compressa Rivestita, Granulato, Macladin, Granulato, Macladin, Polvere, Maviret, Myconix, Mucces, Nervaxon, Nixoglue, Nixoral, Crema, Nixoral, Shampoo, Noxafil, Compressa Gastroresistente, Noxafil, Sospensione, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acle, Posaconazolo EG, Posaconazolo Eurogenerici, Posaconazolo Fresenius Cabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Riflax, Soriclar, Compressa Rilascio Modificato, Soriclar, Compressa Rivestita, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Tedim, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Veclam, Compressa Rivestita, Veclam, Compressa Rivestita, Granulato, Veclam, Granulato, Veclam, Polvere, Vend, Compressa Rivestita, Vend, Polvere, Voriconazolo Accord, Voriconazolo Aristo, Voriconazolo Aurobindo, Voriconazolo Dyrredis, Voriconazolo Milan Pharma, Voriconazolo Milan, Voriconazolo Sandoz GmbH, Voriconazolo Sandoz, Voriconazolo Teva, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, ecc. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere a turvastatina Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere a turvastatina Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento. Pazienti in età fertile e le donne in età fertile devono usare un metodo di contraccezione adeguato, vedere paragrafo 4, 3. Gravidanza a turvastatina Sandoz GmbH è controindicato in gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari a turvastatina Sandoz GmbH altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati in studi clinici controllati condotti con una turvastatina verso placebo, su 16.066 pazienti trattati, 8.755 con una turvastatina VS 7.311 con placebo, per un periodo medio di 53 settimane, il 5,2% dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio non è disponibile un trattamento specifico per il sovradosaggio di a turvastatina Sandoz GmbH. In caso di sovradosaggio, effettuare un trattamento sintomatico e istituire misure di supporto secondo necessità. Si devono eseguire test di funzionalità epatica e devono essere monitorati i livelli sierici di CPK. A causa dell'elevato legame della turvastatina con le proteine plasmatiche, non è previsto che l'emodialisi aumenti significativamente la clarance della turvastatina. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Sostanze modificatrici dei lipidi, inibitori della HMG-CoA riduttasi, codice ATC C10A05. La turvastatina è un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione del, proprietà farmacocinettiche assorbimento. La turvastatina è assorbita rapidamente dopo somministrazione orale. Le massime concentrazioni plasmatiche, CMAX, si raggiungono entro 1-2 ore. L'entità dell'assorbimento è proporzionale alla dose di turvastatina. Dopo somministrazione, dati preclinici di sicurezza la turvastatina è risultata negativa per il potenziale mutagenico e clastogenico in una batteria di 4 test simitroidi in un saggio in vivo. La turvastatina non è risultata cancerogena nei, elenco degli eccipienti nucleo. Sodio laurilfosfato cellulosa microcristallina silice colloidale anivramido di mais pregelatinizzato tormitamolo ferroossido giallo, E172, magnesio stierato talcosodio amido glicolato, tipo A, rivestimento. Croscarmellosa sodica glicerolo Farmaci equivalenti I farmaci equivalenti di turvastatina Sandots GmbH a base di turvastatina sale di calcio sono A Arcas, A Toris, Compressa rivestita, A Torvastatina ABC, Compressa rivestite, A Torvastatina Accord, A Torvastatina Almus Pharma, A Torvastatina Alter, A Torvastatina Aristopharma, A Torvastatina Eurobindo, A Torvastatina Doc, A Torvastatina EG, A Torvastatina JIT, Compressa rivestite, A Torvastatina Corca, A Torvastatina Milan Generics Italia, A Torvastatina Pensa, A Torvastatina Pfizer, A Torvastatina Sun, A Torvastatina Technigen, A Torvastatina Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMaxi sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.